in via monstaker abitava una giovane donna che in seguito a una disgrazia aveva perduto il marito subito dopo le nozze e ora se ne stava povera e abbandonata nella sua stanzetta e aspettava un figlio che non avrebbe avuto un padre e poiché era tanto sola i suoi pensieri erano tutti per il nascituro e non c'era nulla di bello di splendido ed inevitabile che non fosse stato da lei immaginato e desiderato e sognato per quel figlio una casa tutta di pietra con le finestre lucenti come specchi e una fontana in giardino sembrava il minimo per il piccolo e quanto al suo futuro doveva diventare perlomeno professore o re accanto alla povera signora elisabeth viveva un vecchio che ben di rado si vedeva uscire di casa ed era costui un uomo piccolo e grigio con in testa un berretto ornato da un fiocco e in mano un ombrello verde le cui stecche erano fatte ancora di balena come ai vecchi tempi i bambini ne avevano paura e gli adulti sostenevano che doveva avere i suoi buoni motivi per starsene così rintanato spesso non lo si vedeva per lungo tempo ma a volte la sera dalla sua casa che era piccola e cadente si udiva uscire una bella musica che sembrava prodotta da una quantità di minuscoli dolci strumenti allora i bambini di passaggio chiedevano alle madri se a cantare là dentro fossero gli angeli oppure le ondine ma le madri che non lo sapevano rispondevano ma che ma che deve essere un carrion lo metto che i vicini conoscevano come il signor binsbanger aveva una strana forma di amicizia con la signora elisabeth non parlavano mai insieme a dire il vero ma il piccolo vecchio signor binsbanger non mancava mai di salutare nella maniera più cordiale quando passava davanti alla finestra della vicina e lei rispondeva riconoscente l'omino le riusciva simpatico entrambi pensavano rispettivamente se un giorno mi andasse proprio male andrei senz'altro a chiedere consiglio al vicino o alla vicina e quando cominciava a calare l'oscurità e la signora elisabeth se ne stava sola alla finestra a pensare con dolore al marito morto oppure al nascituro e si abbandonava ai suoi sogni ecco che il signor binsbanger apriva in silenzio un'imposta e dalla stanza buia usciva lieve e argentina una musica consolante che filtrava come un raggio di luna da uno squarcio tra le nuvole in compenso il vicino teneva alla finestra sul retro alcune vecchie piante di geranio che si dimenticava sempre di innaffiare e che tuttavia erano sempre verdi e piene di fiori nemmai mostravano una foglia secca che ciò perché ogni tanto alle prime ore dell'alba la signora elisabeth provvedeva a innaffiarle e curarle si andava verso l'autunno e in una sera di pioggia fredda ventosa in cui in via monstaker non si vedeva anima viva la povera donna si rese conto che la sua ora era venuta e si sentì in preda al terrore perché era così sola al calar della notte tuttavia giunse una vecchia con una lanterna entrò in casa fece bollire dell'acqua distese un lenzuolo e preparò quanto è necessario allorché un bambino deve venire al mondo la signora elisabeth stette a osservare tutto questo in silenzio e solo quando il bambino fu nato e avvolto in bei pannicelli nuovi sprofondò nel suo primo sonno terreno chiese alla vecchia come mai fosse arrivata mi ci ha mandata il signor bis vanger rispose quella a queste parole la signora elisabeth stanca si addormentò e quando riaprì gli occhi al mattino trovò ad attenderla una tazza di latte e vide che la stanza era stata spazzata e riordinata e accanto a lei stava il figlioletto che strillava per la fame la vecchia però era scomparsa la madre si portò il piccolo al seno e si rallegrò al vederlo bello e forte pensò al padre defunto che non avrebbe mai potuto vedere il piccolo e gli occhi le si imperlarono di lacrime si strinse al petto l'orfanello e non pote fare a meno di sorridere dopodiché tornò ad addormentarsi insieme al piccino quando si svegliò trovò dell'altro latte e una zuppa e il bambino avvolto in pannicelli puliti ben presto la madre riacquistò le forze e poté provvedere a se stessa e al piccolo augustus e allora pensò che adesso bisognava battezzare il figlio ma che non c'era un padrino allora verso sera mentre l'oscurità calava e dalla casetta del vicino tornava a filtrare la dolce musica andò dal signor bis vanger bussò timida alla porta scura una voce disse avanti con tono cordiale e il signor bis vanger le venne incontro ma la musica all'improvviso cessò e nella stanza c'era una piccola vecchia lampada da tavolo davanti a un libro e tutto era come in qualsiasi altra casa sono venuta da voi disse la signora elisabeth per ringraziarvi perché mi avete mandato quella buona donna vorrei sdebitarmi con lei dandole del denaro non appena potrò tornare a lavorare e a guadagnare qualcosa ora però un'altra è la mia preoccupazione il piccolo deve essere battezzato col nome di augustus che era quello di suo padre ma io non conosco nessuno e non so chi possa fargli da padrino già ci ho pensato anch'io replicò il vicino carezzandosi la barba grigia sarebbe una bella cosa se potesse avere un padrino buono e ricco in grado di provvedere a lui se a voi dovesse andar male ma io sono solo un uomo vecchio e solitario privo di amici ragion per cui non potrei consigliarvi nessuno a meno che voi non vogliate prendere me come padrino la povera madre ne fu ben lieta ringraziò l'ometto e accettò l'offerta la domenica successiva portarono il piccolo in chiesa e lo fecero battezzare e ricomparve anche la vecchia la quale fece dono al bambino di un tallero e siccome la madre non voleva accettarlo le disse prendetelo io sono vecchia e ho tutto quello che mi occorre può darsi che il tallero porti fortuna al piccolo sono stata ben lieta di fare un favore al signor bissenbanger noi due siamo vecchi amici poi andarono tutti a casa della signora elisabeth che servì agli ospiti il caffè e siccome il vicino aveva portato un dolce quello divenne un vero e proprio banchetto battesimale quando ebbero mangiato e bevuto e il piccolo dormiva da un pezzo e il signor bissenbanger disse con tono tranquillo adesso dunque sono il padrino del piccolo augustus e mi piacerebbe tanto potergli fare dono di un castello regale e di un sacco pieno d'oro ma siccome non ho nulla di tutto questo non posso offrirgli altro che un tallero che faccia il paio con quello della signora comare ciò non di meno farò per lui tutto quello che posso signora elisabeth voi avete senza dubbio già augurato al vostro piccolo ogni bene vi prego ora di pensare a quel che secondo voi è il meglio per lui e io farò in modo che si avveri potete esprimere un desiderio per vostro figlio quello che preferite ma uno e uno solo pensateci bene e quando questa sera sentirete suonare il mio piccolo carion dovrete esprimere il desiderio parlando all'orecchio sinistro del vostro piccolo e così sarà esaudito al che prese in fretta congedo e la comare se ne andò con lui ed elisabeth restò sola e meravigliata e se i due talleri non fossero stati lì nella culla e il dolce sul tavolo avrebbe creduto che tutto fosse stato un sogno si sedette accanto alla culla e ninnò il figlioletto riflettendo e passando in rassegna i più bei desideri da prima avrebbe voluto vederlo ricco oppure bello oppure straordinariamente forte o ancora intelligente e sagace ma ogni volta le veniva un dubbio e alla fine pensò è stato solo uno scherzo del vecchietto era ormai scesa l'oscurità ed elisabeth stava quasi per addormentarsi accanto alla culla sfinita dai festeggiamenti dai pensieri e dai tanti desideri quando ecco che dalla casa del vicino si fece udire una bella musica suave così dolce e preziosa quale mai è uscita da un carion allora elisabeth si riscosse e tornò a credere al signor bisbanger e al suo regalo di battesimo e più ci pensava e più numerosi erano i desideri che avrebbe voluto formulare ma nella sua mente tutto si confondeva sempre più tanto che non riusciva a decidersi si sentì allora tristissima gli occhi le si riempirono di lacrime e in quella la musica divenne più sommessa e debole ed elisabeth pensò che se non avesse espresso il suo desiderio all'istante sarebbe stato troppo tardi tutto sarebbe stato perduto allora con un sospiro si chinò sul figlioletto e gli sussurrò all'orecchio sinistro bambino mio io ti auguro io ti auguro e siccome la bella musica già accennava a spegnersi ebbe un sussulto e disse in fretta ti auguro che tutti gli esseri umani debbano amarti i suoni si erano tacciuti nella stanza buia il silenzio era adesso assoluto elisabeth si gettò sulla culla e pianse ed era piena di angoscia e di inquietudine ed esclamò ti ho augurato la cosa che ritengo essere la migliore ma può darsi che non sia stata quella giusta e anche se tutti proprio tutti gli uomini ti ameranno nessuno potrà volerti tanto bene quanto la tua mamma augustus crebbe tale quale gli altri bambini era un bel ragazzino biondo dagli occhi chiari e correggiosi che la madre viziava e che da tutti era ben visto elisabeth si accorse ben presto che il desiderio da lei espresso il giorno del battesimo si avverava perché non appena il piccolo fu in età da poter camminare ed andare incontro ad altre persone ecco che tutti lo trovarono bello carino intelligente come nessun altro bambino tutti lo guardavano negli occhi e gli dimostravano simpatia le giovani madri gli sorridevano vecchiette gli regalavano mele e quando combinava qualche marachella nessuno pensava che fosse opera sua e se proprio era impossibile negarlo tutti alzavano le spalle dicevano è impossibile prendersela con un bambino amabile come lui gente che era stata attratta dal bel bambino andò a trovare sua madre e questa che prima nessuno conosceva e in precedenza aveva avuto pochissimo lavoro di cucito da fare in casa adesso divenne ben nota come la mamma di augustus e aveva più ordinazioni di quante gliene occorressero le cose per lei come per il bambino andavano benone e dovunque madre e figlio si mostrassero tutti si rallegravano li salutavano seguivano con lo sguardo quelle due persone felici ma era soprattutto con il padrino che augustus se l'intendeva meglio il vecchio a volte lo chiamava nella sua casetta la sera là dentro era buio solo nel nero camino ardeva una rossa fiammella faceva sedere il piccolo accanto a sé sopra una pelle stesa sul pavimento e con lui guardava la fiammella e gli raccontava lunghe storie a volte però quando una di quelle lunghe storie giungeva alla fine e il bambino ciondolando dal sonno fissava nell'oscurità silenziosa il fuoco con occhi aperti solo a metà ecco che prendeva a risuonare una dolce musica più voci e quando i due l'avevano assaporata a lungo in silenzio spesso accadeva che l'intera stanza all'improvviso si riempisse di bimbetti splendenti che con lucenti ali dorate volavano qua e là ed eseguivano liete carole girando l'uno attorno all'altro o a coppie e intanto cantavano e cento e cento erano le voci che si univano in un coro pieno di gioia e di bellezza era la cosa più stupenda che augustus avesse mai visto e udito e in seguito quando riandava con la mente alla sua infanzia rivedeva sempre e ne provava nostalgia la silenziosa buia stanza del vecchio padrino e la fiamma rossa del caminetto con la musica e il festoso magico volo dorato delle angeliche creature nel frattempo il bambino cresceva e adesso venivano per la sua mamma ore in cui era triste e ripensava alla sera del battesimo augustus scorazzava tutto allegro per le strade dei dintorni ed era ovunque il benvenuto gli regalavano noci e mele dolci e balocchi gli davano da mangiare e da bere se lo facevano salire sulle ginocchia e gli lasciavano cogliere i fiori nei giardini e spesso gli capitava di tornare a casa tardi e di allontanare svogliato la minestra che la mamma gli aveva preparato e quando lei se ne turbava e piangeva la trovava noiosa e se ne andava imbronciato nel suo lettino e se poi lei lo sgridava e lo puniva strillava con forza e protestava dicendo che tutti erano buoni e gentili con lui tranne la mamma e lei restava per lunghe ore turbata a volte addirittura furibonda ma quando poi vedeva il figlio dormire il volto innocente illuminato dalla luce della candela ogni risentimento se ne andava dal suo cuore e lo baciava sfiorandolo appena perché non si svegliasse era colpa sua se tutti volevano tanto bene ad augustus e la donna volte con tristezza e quasi con paura si diceva che forse sarebbe stato meglio se mai avesse formulato quel desiderio un giorno era alla finestra del signor biswanger quella dei gerani intenta a tagliare con un paio di forbicine i fiori appassiti quando udì nel cortile che si apriva dietro le due case vicine la voce del figlio letto si sporse a guardare lo vide affacciato al muretto che protendeva il bel viso un tantino superbo e davanti a lui stava una bambina più grande di lui che lo guardava implorante e gli diceva vero che tu sei così caro e mi dai un bacio ah non ne ho voglia rispose augustus e si cacciò le mani in tasca oh te ne prego tornò a implorare lei in compenso ti darò qualcosa di bello e che cosa chiese il bambino ho due mele ma lui le volse le spalle abbozzando una smorfia le mele non mi piacciono disse sprezzante facendo per andarsene la ragazzina però lo trattenne e disse con tono insinuante senti senti ho anche un bel anello fammelo vedere ordinò augustus lei gli mostrò l'anello augustus lo osservò bene bene poi glielo strappò dal dito e se lo mise al proprio lo espose alla luce e se ne compiacque bene puoi avere il tuo bacio concesse con aria distaccata e le posò un bacio distratto sulla bocca non vuoi venire a giocare con me gli chiese lei fiduciosa appendendoglisi al braccio lui però si svincolò e gridò con rabbia e lasciami in pace una buona volta ci sono tanti altri bambini con cui posso giocare la bambina cominciò a piangere e se ne andò avvilita e augustus assunse un'aria annoiata e stizzita poi si girò l'anello al dito lo contemplò e fischiettando si allontano lemme lemme sua madre restò invece lì le forbicine in mano sbalordita dalla durezza e dal disprezzo con cui suo figlio accoglieva l'amore degli altri si dimenticò dei fiori e scuotendo il capo non fece che ripetersi è proprio cattivo non ha cuore ma poco dopo quando augustus rincasò e lei intavolò l'argomento il bambino la guardò ridendo con occhi azzurri senza provare il minimo senso di colpa e anzi prese a cantare e a vezzeggiarla ed era così divertente gentile e carino con lei che la signora elisabeth non poté trattenersi dal ridere e si convince che con i bambini non bisogna prendere le cose tanto sul serio comunque le marachelle del figlio non restavano sempre impunite il padrino bis wanger era l'unica persona per la quale augustus mostrasse rispetto e quando la sera andava a trovarlo e il padrino gli diceva oggi non c'è fuoco nel camino e non c'è musica gli angioletti sono tristi perché tu sei stato cattivo il piccolo rincasava in silenzio si gettava sul letto e piangeva e poi per parecchi giorni di seguito faceva del suo meglio per mostrarsi gentile e amabile ma il fuoco del camino ardeva sempre più di rado e il padrino impossibile corromperlo né con le lacrime né con i vezi quando augustus ebbe dodici anni il magico volo degli angioletti nella stanza del padrino era per lui ormai null'altro che un remoto ricordo e se gli capitava di sognarselo notte tempo il giorno successivo era più intrattabile capriccioso del solito e tiranneggiava i suoi molti compagni di giochi neanche fosse un generale da un pezzo sua madre si era stancata di sentire tessere da tutti le loti del figlio e quanto era bello e buono a lei non dava che grattacapi e quando un giorno il maestro di augustus venne a dirle che tutti erano d'accordo sull'opportunità di mandare il ragazzo in altre scuole per farlo studiare la signora elisabeth andò a parlare col vicino e poco dopo un mattino di primavera arrivò una carrozza e augustus con indosso un bell'abito nuovo vi salì prese congedo dalla madre dal padrino e dai vicini perché andava a studiare nella capitale sua madre gli aveva pettinato con cura per l'ultima volta i biondi capelli e gli aveva impartito la sua benedizione i cavalli si mossero e augustus partì verso il mondo sconosciuto parecchi anni dopo quando il giovane augustus era ormai uno studente che inalberava un berretto rosso e sfoggiava un paio di baffetti tornò al paese natio perché il padrino gli aveva scritto che la madre era gravemente malata e prossima alla fine vi giunse di sera e la gente stette a guardarlo a bocca aperta mentre scendeva di carrozza e il cocchiere lo scortava portando una grossa valigia di cuoio sua madre giaceva morente nella vecchia stanza dal soffitto basso e quando il bello studente vide sul bianco guanciale un volto altrettanto bianco e avvizzito in cui solo gli occhi si mossero a salutarlo cadde in ginocchio piangendo al capezzale e baciò le fredde mani della donna e restò così tutta la notte finché le mani si fecero gelide e gli occhi si spensero e quando la madre fu sepolta il padrino Bins Wanger lo prese sotto braccio e lo portò nella sua casetta che al giovane parve più bassa e più buia che mai e dopo che a lungo furono rimasti seduti l'uno accanto all'altro e soltanto la finestrella si stagliava ormai debolmente nell'oscurità il vecchietto si passò le secche dita nella barba grigia e disse ad augustus accendo il fuoco nel camino così non abbiamo bisogno della lampada so che domani devi ripartire e adesso che tua madre è morta non ti si rivedrà tanto presto mentre così parlava accese un fuocherello nel camino e portò più vicina a questo la sua seggiola lo studente fece altrettanto con la propria e poi rimasero ancora lungo in silenzio a guardare le braci ardenti finché le scintille si fecero più e allora il vecchio riprese a dire con tono suave augusto scaro ti auguro ogni bene hai avuto una madre come si deve che ha fatto per te più di quanto tu non creda quanto a me ben volentieri avrei fatto ancora una volta un po di musica con gli angioletti danzanti ma capisci vero che non è più possibile tu però non devi mai dimenticartene e anzi tener presente che gli angioletti continuano a cantare e che forse anche tu un giorno potrai rivederli se con cuore mesto e nostalgico lo desidererai adesso dammi la mano ragazzo mio perché sono vecchio e devo andare a dormire augustus gli porse la mano incapace di pronunciare parola poi tornò tutto triste alla casetta desolata e per l'ultima volta vi si coricò e prima di addormentarsi ebbe l'impressione di riudire lontanissima debolissima la dolce musica della sua infanzia il mattino successivo ripartì e per lungo tempo non si ebbero più sue notizie ben presto augustus si dimenticò anche del padrino bins wanger e dei suoi angioletti la ricca vita fluiva turbinosa attorno a lui ed egli vi si abbandonava lasciandosi trasportare dalla corrente nessuno sapeva come lui passare a cavallo per strade echeggianti al suono degli zoccoli e salutare con sguardi beffardi le fanciulle che vi si affacciavano nessuno sapeva danzare con altrettanta travolgente leggerezza nessuno guidare una carrozza con tanta disinvolta eleganza nessuno gozzovigliare con tanta prodigalità in un giardino d'estate la ricca vedova di cui era l'amante gli dava denaro abiti cavalli e tutto ciò che gli occorreva e che desiderava con lei augustus viaggiò recandosi a parigi e a roma con lei dormì nel suo letto di seta ma il suo amore era la soave bionda figlia di un borghese che notte tempo con gran pericolo si recava a visitare nel giardino della casa del padre e che quando augustus era in viaggio gli scriveva lunghe appassionate lettere un giorno però augustus non fece ritorno aveva trovato amici a parigi e poiché la ricca vedova gli era venuta in uggia e lo studio da un pezzo lo aveva annoiato restò in quel paese straniero frequentando il gran mondo mantenendo cavalli cani donne perdendo e guadagnando denaro interi grossi rotoli di monete d'oro e ovunque c'era chi lo rincorreva e si metteva a sua disposizione e lo serviva e augustus sorrideva e accettava le profferte così come da bambino aveva fatto con l'anello della ragazzina la magia del desiderio splendeva nei suoi occhi e sulle sue labbra le donne lo circondavano di tenerezza gli amici stravedevano per lui e nessuno s'accorgeva e lui stesso lo avvertiva appena quanto il suo cuore si fosse fatto vuoto e avido e quanto malato e sofferente fosse il suo animo a volte si sentiva tanto stanco di essere amato da tutti che se ne andava da solo in abiti diversi per città straniere e ovunque trovava uomini e donne stolti e troppo facili da conquistare e ovunque gli sembrava risibile l'amore che con tanto zello gli correva appresso e che tanta poca soddisfazione gli dava ormai uomini e donne spesso lo nauseavano per la loro mancanza di fierezza e augustus trascorreva intere giornate solo con i suoi cani oppure in splendide riserve di caccia tra i monti e un cervo sorpreso e abbattuto lo aglietava più che la conquista di una bella donna altera un giorno durante un viaggio per mare fu colpito dalla giovane moglie di un ambasciatore una severa snella dama di nordica aristocrazia la quale se ne stava meravigliosamente isolata superba e silenziosa in una cerchia di molte altre signore di nobili natali e di gentiluomini di mondo quasi che nessuno fosse pari a lei non appena augustus la vide e notò come lo sguardo della dama sembrasse sfiorarlo appena fugace e indifferente gli parve di capire per la prima volta che cosa fosse l'amore e si propose di conquistare quello di lei da quel momento a ogni ora del giorno le stette vicino sotto gli occhi e siccome egli stesso era sempre circondato da uomini e donne che lo ammiravano e cercavano la sua compagnia sia augustus che la bella severa spiccavano tra i rispettivi compagni di viaggio come un principe e una principessa persino il marito della bella bionda notò augustus e fece del suo meglio per ingraziarselo ad augustus non riusciva mai di trovarsi a quattro occhi con la straniera finché giunti in una città portuale del sud tutti i viaggiatori scesero per trascorrere in quel luogo un paio d'ore e sentire di nuovo per un poco la terra ferma sotto i piedi augustus non s'allontanò dall'amata e finalmente gli riuscì nella confusione di un pittoresco mercato di parlarle innumerevoli erano le stradine buie che si arrivano sulla piazza e lungo una di esse egli la condosse e la donna gli si affidò ma quando all'improvviso si vide sola con lui si spaventò perché non aveva più attorno a sé la solita cerchia augustus allora le rivolse un luminoso sorriso prese nella sua la mano ritrosa di lei e le implorò di restare con lui in quel paese di fuggire insieme la straniera era impallidita teneva gli occhi fissi a terra oh ma questo non è un comportamento da cavaliere disse sottovoce preferisco dimenticare le vostre parole io non sono un cavaliere esclamò augustus io sono uno che vi ama e uno che ama non conosce null'altro che l'amata e non altro pensiero che stare con lei oh mia bellissima vieni con me saremo felici insieme lei lo guardò con i suoi occhi azzurro chiari era uno sguardo grave pieno di riprovazione come fate a esserne certo sussurrò con tono dolente che io vi ami tuttavia non vi mentirò vi amo e spesso desiderato che voi foste mio marito voi siete il primo che ho amato di tutto cuore oh come può traviare l'amore non avrei mai pensato che mi fosse possibile amare un uomo che non è puro e buono ma preferisco mille volte restare con mio marito che amo di meno ma che tuttavia è un gentiluomo tutto onore e nobiltà cose a voi ignote e ora vi proibisco di aggiungere una sola parola e vi prego di riportarmi alla nave altrimenti chiamo in aiuto il primo che capita perché mi protegga dalla vostra insolenza augustus ebbe un bel implorare e minacciare lei gli voltò le spalle e se ne sarebbe andata da sola se lui in silenzio non le si fosse messo al fianco scortandola fino alla nave qui giunto fece sbarcare i suoi bagagli e se ne andò in salutato ospite a partire da quel momento la felicità volse le spalle a colui che era stato troppo amato virtù e onestà gli erano divenute odiose era arrivato a calpestarle e il suo piacere consisteva nel sedurre donne virtuose con tutte le arti della sua magia e nello sfruttare uomini fiduciosi dei quali s'accattivava rapidamente l'amicizia per poi piantarli sprezzantemente in asso riduceva sull'astrico donne e ragazze rinnegava e andava in cerca di altre giovani di nobile casato che al pari seduceva e corrompeva non era godimento che non ricercasse ed esaurisse non era vizio che non imparasse e abbandonasse ma non era più gioia nel suo cuore e l'amore che da ogni parte gli veniva incontro non trovava più risonanza nell'animo suo in una bella casa isolata sul mare egli viveva cupo e svogliato tormentando le donne e gli amici che si recavano a rendergli visita con i più pazzi capricci e malignità il suo diletto consisteva nell'umiliare gli altri dando loro a vedere quanto li disprezzasse ne aveva abbastanza non ne poteva più di vedersi circondato da amore non voluto non richiesto immeritato sentiva il vuoto della sua esistenza sprecata e distrutta che mai dava e soltanto prendeva a volte aveva fame e sete di un tempo in cui potesse sentirsi ancora mosso da giuste aspirazioni e riuscisse a soddisfare un desiderio tra i suoi amici si era diffusa la voce che era ammalato e che aveva bisogno di quiete e solitudine arrivavano lettere che augustus mai leggeva uomini e donne preoccupati chiedevano notizie della sua salute ai domestici egli però se ne stava solo e profondamente afflitto nella sala sopra il mare la vita gli pareva un deserto vuoto e desolato sterile e senza traccia d'amore come il mobile grigio flutto salato era triste vederlo abbandonato sulla seggiola davanti all'alta finestra intento alla resa dei conti con se stesso i bianchi gabbiani aleggiavano sulle brezze marine e augustus li seguiva con sguardo vacuo con occhi da cui era scomparsa ogni gioia ogni partecipazione solo le sue labbra si arquavano in un sorriso duro e cattivo quando esauriti i suoi pensieri se la prendeva con il cameriere si era a questo punto quando un giorno invitò tutti i suoi amici a una festa ma il suo proposito era di spaventare e schernire gli ospiti con la vista di una casa vuota e del proprio cadavere che augustus era deciso a togliersi la vita col veleno la sera precedente il giorno della festa cacciò da casa tutti i servitori nelle grandi stanze regnò allora il silenzio ed egli andò in camera da letto versò un potente veleno in un bicchiere di vino di cipro e se lo portò alle labbra ma proprio mentre stava per bere qualcuno bussò all'uscio e siccome augustus non rispondeva ecco la porta aprirsi ed entrare un vecchietto questi gli si avvicinò gli tolse con precauzione il bicchiere di mano e disse con voce ben nota buonasera augustus come va augustus sorpreso irritato confuso ebbe una risatina di scherno e replicò signor Binsbanger siete dunque ancora vivo ed è un pezzo che non ci vediamo e si direbbe che non siete invecchiato affatto ma in questo momento caro il mio uomo qui siete di troppo e io sono stanco e intendo prendere un sonnifero l'ho ben visto replicò tranquillo il padrino certo che vuoi prendere un sonnifero e hai ragione questa è l'ultima bevanda che ti possa essere ancora di giovamento prima però sarà meglio che facciamo due chiacchiere caro il mio giovanotto e poiché è lunga la strada che ho percorso non irritarti se mi rinfresco con un sorso sul che prese il bicchiere se lo portò alla bocca e prima che augustus potesse trattenerlo lo alzò e lo vuotò in un sorso solo augustus s'era fatto pallido come un morto si gettò sul padrino lo scosse per le spalle e gridò con voce stridula vecchio ma sai quel che hai bevuto il signor Binsbanger annui con la saggia testa grigia e ridacchiò è vino di cipro a quel che vedo e niente affatto male non mi sembra che ti manchino le buone cose ma ho poco tempo e non voglio annoiarti a lungo ti chiedo solo di prestarmi orecchio per qualche istante sconvolto augustus fissava spaventato gli occhi chiari del padrino aspettandosi da un istante all'altro di vederlo piombare a terra il padrino invece si accomodò tranquillamente su una seggiola con un bonario cenno del capo al giovane amico ti preoccupi che quel sorso di vino possa farmi male sta tranquillo è bello da parte tua preoccuparti per me a dire il vero non l'avrei supposto adesso però facciamoci due chiacchiere come ai vecchi tempi mi sembra che della vita spensierata tu ne abbia abbastanza o mi sbaglio lo capisco molto bene e quando me ne sarò andato potrai tornare a riempirti il bicchiere e vuotarlo prima però ho qualcosa da dirti augustus s'appoggiò alla parete e stette ad ascoltare la voce bonaria piacevole del vecchissimo omino che conosceva fin dall'infanzia e che risvegliava nell'animo suo le ombre del passato una profonda vergogna e tristezza si impadronì di lui quasi che fissasse negli occhi la propria innocente infanzia il tuo veleno l'ho bevuto io rispose il vecchio perché sono io il colpevole della tua miseria tua madre il giorno del tuo battesimo ha espresso per te un desiderio e io l'ho esaudito sebbene fosse insensato inutile che tu lo sappia si è trasformato in una maledizione come tu stesso hai avuto modo di constatare mi dispiace che le cose siano andate così e certo mi riempirebbe di gioia se potessi vederti ancora una volta a casa mia seduto accanto al camino e tu potessi udir cantare gli angioletti non è facile e in questo istante forse ti sembra impossibile che il tuo cuore torni a essere sano puro e lieto e io vorrei pregarti di provare il desiderio della tua povera mamma ti ha fatto solo del male augustus ti andrebbe di permettermi di esaudire questa volta un tuo desiderio quale che sia certo non desidererai denaro né possedimenti e neppure potere né amore di donne credo che tu ne abbia avuto abbastanza riflettici e quando credi di aver trovato qual è il magico desiderio capace di rendere più bella e migliore la tua esistenza e di ridarti la gioia allora esprimilo augustus rimase a lungo in silenzio immerso in profonde riflessioni ma era troppo stanco troppo disperato e alla fine disse ti ringrazio padrino vince wanger ma penso che la mia vita sia una matassa così arruffata che nessun pettine la può più ravvivare è meglio che faccia quello che stavo per fare quando sei entrato tu comunque ti ringrazio di essere venuto già replicò il vecchio pensoso posso ben capire che non ti riesca facile ma forse puoi pensarci su ancora un tantino caro augustus e forse allora ti verrà in mente qualcosa che finora ti è mancato e magari ti rammenterai dei vecchi tempi quando tua madre era ancora viva e a volte la sera venivi da me allora di tanto in tanto riuscivi ad essere felice vero allora sì convenne augustus e l'immagine della sua raggiante fanciullezza gli parve remota e pallida come il riflesso di un vetusto specchio ma quei tempi sono passati per sempre non posso certo augurarmi di tornare ad essere un bambino ricomincierebbe tutto da capo no non avrebbe senso qui hai ragione tu ma penso ancora al tempo in cui vivevamo al villaggio e alla povera ragazza che da studente andavi a trovare nottetempo nel giardino di suo padre e pensa anche alla bella donna bionda con cui una volta hai fatto un viaggio per mare e pensa a tutti i momenti in cui sei stato felice e in cui la vita ti è parsa buona e degna forse capirai allora che cosa ti ha reso felice in quegli istanti e potrai augurartelo fallo per me ragazzo mio augustus chiuse gli occhi e volse lo sguardo a contemplare la propria esistenza passata così come da un buio andito si volge lo sguardo a quel lontano punto luminoso da cui si è giunti e si rese conto di come un tempo tutto fosse stato chiaro e bello attorno a lui per poi farsi sempre più fosco finché lui si era ritrovato a brancolare fra tenebre sempre più fitte senza che nulla ormai potesse rallegrarlo e più ci pensava più ricordava tanto più bella e amabile desiderabile splendeva la piccola luce remota e alla fine egli la riconobbe e lacrime gli sgorgarono dagli occhi mi ci proverò disse al padrino toglimi l'antica magia che di nessun aiuto mi è stata e concedimi che io possa amare gli uomini piangendosi inginocchiò ai piedi del vecchio amico e già mentre compiva questo gesto si sentì ardere in cuore l'amore per quell'uomo e desiderò ritrovare parole e gesti dimenticati ma il padrino il vecchissimo ometto lo prese dolcemente tra le braccia e lo adagiò sul letto e gli accarezzò i capelli sulla fronte febbricitante così va bene gli sussurrò piano così va bene ragazzo mio vedrai che tutto si sistemerà allora augustus si sentì cogliere da una pesante stanchezza come se in un istante fosse invecchiato di anni cadde in un profondo sonno e il vecchio uscì silenzioso dalla casa vuota augustus fu destato dal fragore che riempiva la villa e levato si è aperto l'uscio vide che la sala e tutte le stanze erano affollate dai suoi amici di un tempo che accorsi per la festa avevano trovato la casa deserta erano irati e delusi ed egli andò loro incontro deciso come al solito a riconquistarseli con un sorriso e una parola scherzosa ma ad un tratto s'avvide che questo potere l'aveva abbandonato non appena lo scorsero quelli cominciarono infatti a inveire contro di lui augustus abbozzò un sorriso smarrito tese le braccia come per difendersi e loro gli furono addosso imbroglione dove è il denaro che mi devi e qui è il cavallo che ti ho prestato è una bella donna infuriata tutti sanno i miei segreti che tu hai propalato come ti odio mostro mentre un giovane dalle orbite vuote dal volto scavato urlava lo vedi quello che hai fatto a me demonio corruttore della gioventù e altri facevano lo stesso ognuno riversando su augustus insulti sanguinosi e tutti avevano delle ragioni e molti lo percossero non appena se ne andarono e uscendo infransero gli specchi e si impadronirono di molti oggetti preziosi augustus si alzò dal pavimento e rientrato in camera da letto e guardandosi allo specchio mentre si chinava per lavarsi scorse un volto brutto e appassito gli occhi rossi pieni di lacrime la fronte macchiata di sangue questa è la giusta vendetta si disse e si deterse il sangue dal volto ma proprio in quella mentre era immerso in riflessioni ecco nuovi clamori levarsi nella casa uomini precipitarsi su per le scale strozzini ai quali aveva dato impegno la casa e un marito cui aveva sedotto la moglie e padri cui figli da lui circuiti si erano abbandonati al vizio e alla miseria e domestici da lui cacciati poliziotti e avvocati un ora dopo augustus era seduto in una carrozza che lo conduceva in carcere dietro un codazzo di gente che intonava strofette sarcastiche mentre un teppista dal finestrino della carrozza gettò in faccia all'arrestato una manciata di fango in città non si faceva che parlare delle malvagie azioni di quell'uomo che tanti avevano conosciuto e amato non c'era colpa di cui non fosse accusato e di nessuna egli si dichiarava innocente persone da un pezzo dimenticate si presentavano ai giudici e rivelavano cose da lui commesse anni prima domestici che lo avevano derubato e ne avevano ricevuto doni spifferavano i segreti dei suoi vizi e tutti i volti erano pieni di disgusto e odio e non era chi parlasse a suo beneficio chi lo lodasse chi lo scusasse chi ricordasse una sua buona azione augustus non si opponeva non protestava si lasciava condurre in cella e fuori dalla cella davanti ai giudici e davanti ai testimoni con occhi stanchi guardava stupito e triste i molti volti rabbiosi indignati astiosi e in tutti scorgeva sotto la crosta d'odio e di esagerazione il residuo segreto d'un'attrazione amorosa di un fremito del cuore tutti coloro un tempo lo avevano amato mentre lui non ne aveva amato nessuno e ora per tutti trovava una scusa in tutti si sforzava di scoprire qualche lato buono alla fine venne gettato in un carcere dove nessuno poteva avvicinarlo e nei suoi sogni febbrili parlava con la madre e con le sue prime amate con il padrino binsbanger e con la dama nordica che aveva conosciuto sulla nave e quando si svegliava e trascorreva solitario terribili giornate vuote provava tutto il tormento della nostalgia e dell'abbandono e desiderava la visita dei suoi simili come mai aveva desiderato un godimento o un possesso quando uscì dal carcere era vecchio e malato nessuno più lo conosceva il mondo tirava per la propria strada chi andava in carrozza e chi a cavallo chi passeggiava per le strade lungo le quali frutta e fiori giocattoli e giornali venivano offerti in vendita solo ad augustus nessuno si rivolgeva belle donne che un tempo aveva stretto tra le braccia tra musiche e champagne gli passavano accanto in ricche carrozze e la polvere che queste sollevavano si posava su di lui ma il terribile senso di vuoto e di solitudine da cui si era sentito soffocare nel pieno della sua vita festosa quello era scomparso del tutto quando entrava in un androne per proteggersi un istante dal raggio ardente del sole o in un cortile per chiedere un sorso d'acqua si meravigliava che gli altri lo stessero a guardare e ad ascoltare con aria così arcigna e ostile quegli stessi che un tempo avevano accolto con occhi lucenti pieni di gratitudine parole superbe e prive di amore ma augustus adesso si rallegrava e si commuoveva alla vista di qualsiasi essere umano amava i bambini che vedeva giocare e andare a scuola amava i vecchi che vedeva seduti su una panchina davanti alle loro casupole riscaldando al sole le mani vizze quando scorgeva un giovane che seguiva con occhi vogliosi una ragazza oppure un operaio che tornando a casa il sabato stringeva tra le braccia i figli o ancora un abile esperto medico che in fretta passava in carrozza pensoso solo dei suoi malati o magari una povera prostituta malvestita che la sera in un quartiere periferico aspettava accanto a un lampione e offriva amore persino a lui il reietto tutti tutti costoro erano lo sentiva suoi fratelli e sue sorelle e tutti portavano in sé il ricordo di una madre amata e di un'origine migliore oppure il segno segreto di un destino più bello e più nobile e tutti gli erano cari e meravigliosi lo inducevano a riflettere e nessuno era peggiore di quanto egli si credesse augustus decise di errare ramingo per il mondo e di cercare un luogo in cui gli fosse possibile essere di qualche utilità ai suoi simili e mostrar loro il proprio amore doveva abituarsi al fatto che la sua vita non rallegrava più nessuno il suo volto era emaciato i suoi abiti erano quelli di un mendicante anche la voce e il passo non conservavano traccia di ciò che un tempo aveva rallegrato e incantato la gente i bambini lo temevano perché il suo volto era coperto di una barba grigia e cespugliosa i ben vestiti si tenevano alla larga da lui perché la sua vicinanza li metteva a disagio se ne sentivano contaminati e i poveri ne diffidavano come di un estraneo pronto a contendere loro magri bocconi gli riusciva dunque difficile mettersi al servizio dei suoi simili ma imparò non se ne lasciò irritare vide un bambinetto tendere la mano verso la maniglia di una panetteria senza riuscire a raggiungerla e lo aiutò di tanto in tanto gli capitava di imbattersi in qualcuno che era stato più povero di lui un cieco o uno storpio che poteva accompagnare per un tratto di strada facendogli del bene e quando non gli riusciva di farlo dava con cuore lieto quel poco che aveva ed era null'altro che uno sguardo limpido bonario e un saluto fraterno un cenno di comprensione e di compassione imparò andando per la strada a riconoscere a prima vista ciò che gli altri si aspettavano da lui che cosa potesse rallegrarli questi un saluto gioioso sincero quegli uno sguardo tacito e un altro ancora che gli si stesse alla larga senza infastidirlo non passava giorno senza che si meravigliasse di quanta miseria fosse al mondo e quanto allegri e contenti potessero tuttavia mostrarsi gli esseri umani e lo gratificava e trovava esaltante constatare di continuo come non fosse dolore al quale non facesse riscontro un lieto riso e lamento funebre cui non rispondesse il canto di un bambino e come per ogni miseria e bassezza si desse gentilezza una battuta di spirito una consolazione un sorriso la vita umana gli sembrava meravigliosamente strutturata quando girava un angolo e gli correva incontro un'orda di scolaretti quando ardimento e gioia di vivere e bellezza si leggevano in tutti quegli occhi e anche se gli davano un po' la baia e lo tormentavano non gli riusciva a discaro era perfettamente comprensibile lui stesso si vedeva a specchiarsi in una vetrina oppure in una fontana quando si chinava a bervi vizzo e di meschino aspetto no non si trattava più per lui di piacere agli altri o di esercitare un potere ne aveva avuto abbastanza di tutto questo per lui adesso era bello ed edificante persino vedere altri indirizzati lungo quella stessa strada e sentirsi come si era sentito un tempo lui perché il fatto che tutti gli uomini perseguissero con tanto zelo tanta energia e orgoglio e gioia le proprie mete gli sembrava solo un sorprendente spettacolo nel frattempo era venuto l'inverno ed era tornata l'estate augustus giacque a lungo malato in uno spizio per poveri e qui godette in grato silenzio la felicità di vedere miseri derelitti esseri umani aggrapparsi con tenacia incontrollabile desiderio alla vita e vincere la morte stupendo era per lui leggere nei tratti dei malati gravi la pazienza e negli occhi dei convalescenti rifiorire la gioia di vivere e belli gli apparivano anche i volti immoti dignitosi dei defunti ma belli soprattutto erano l'amore e la pazienza delle aggraziate linde infermiere ma anche questo periodo giunse al finire spirava il vento d'autunno e augustus riprese il suo peregrinare diretto all'inverno e una singolare impazienza si impadronì di lui come s'avvide quando infinitamente lieto fosse il suo progredire perché ovunque arrivasse sempre più esseri umani avrebbe voluto vedere i capelli gli erano divenuti grigi i suoi occhi sorridevano deboli sotto palpebre rosse malate e un po alla volta anche la sua memoria s'era indebolita al punto che gli pareva che mai il mondo fosse stato diverso pure era lieto e il mondo gli appariva affatto splendido e amabile giunse così all'inizio dell'inverno a una cittadina la neve turbinava per le strade scure e un paio di monelli ritardatari gettarono palle di neve al viandante ma a parte questo tutto era già immerso nel silenzio serale augustus era stanchissimo giunse in una viuzza che gli parve ben nota e da quella in un'altra ed ecco lì la casa di sua madre e la casa del padrino binswanger piccole vecchie nella fredda tormenta e in quella del padrino una finestra era illuminata e se ne spandeva nella notte invernale un riflesso rosso e placido augustus si diresse a quella volta e bussò all'uscio e l'omino gli andò ad aprire e in silenzio lo condusse nella stanza che era calda e tranquilla un focherello ardeva chiaro nel camino hai fame chiese il padrino ma augustus non aveva fame si limitò a sorridere e a scuotere il capo di certo però sarai stanco disse il padrino e distese sul pavimento la vecchia pelliccia e i due vecchi si accoccolarono e stettero a guardare il fuoco lunga è la strada che hai percorso disse il padrino è stata molto bella mi sono solo stancato un pochino posso dormire da te domattina me ne andrò certo che puoi farlo e non vorresti vedere ancora una volta gli angioletti che danzano gli angioletti mi piacerebbe moltissimo poter tornare bambino e da un pezzo che non ci vediamo riprese il padrino ti sei fatto così bello i tuoi occhi sono tornati buoni e dolci come un tempo quando tua madre era ancora in vita è stato gentile da parte tua venirmi a trovare il viandante coperto di stracci sedeva sfinito accanto all'amico mai si era sentito così stanco e quel bel calore e il fuoco lo frastornarono al punto che non riusciva più a distinguere chiaramente tra oggi e ieri padrino binzwanger disse sono stato ancora una volta bizzoso e la mamma a casa ha pianto devi andare a parlare con lei e assicurarle che tornerò a essere buono lo farai ma certo promise il padrino sta tranquillo la mamma ti vuole bene il fuoco stava ormai per spegnersi e augustus fissava la debole fiammella con gli stessi grandi occhi assonnati di un tempo quando era un bimbetto e il padrino se ne prese la testa in grembo ed ecco una bella musica gioconda risuonare dolce e soave nella stanza buia e mille piccoli raggianti spiritelli giunsero fluttuando a intrecciare allegre abili carole da soli e a coppie e augustus stava a guardare e ad ascoltare e salutava il ritrovato paradiso con tutta la sua infantile innocenza d'un tratto gli parve che la madre l'avesse chiamato ma era troppo stanco e poi il padrino non aveva forse promesso di parlare con lei e come si addormentò il padrino gli congiunse le mani sul petto e vi appoggiò su l'orecchio finché il cuore non cessò di battere e così rimase finché nella stanza il buio fu totale un po' di battere e così rimase finché la stanza il buio fuori di attenzione